buonasera benvenuti 8 e mezzo buonasera bentornato Gianrico caro figlio scrittore ex magistrato buonasera bentornato Beppe Severnini editorialista e vice direttore del Corriere della Sera buonasera Lili buonasera buonasera bentornato Andrea Scanzi giornalista del fatto quotidiano allora Salvini vuole fare l'americano e dopo la visita a Washington torna in Italia inneggiando a Donald Trump promettendo meno tasse e annunciando battaglia contro l'Europa e lo stesso Trump lo sostiene attaccando Mario Draghi subito dopo la pubblicità Peppe Severnini allora Salvini è tornato da Washington e vuole fare il trampiano all'americano ha detto che la politica di Trump può essere un modello per l'Italia che lui farà una manovra economica trampiana Conte gli ha risposto in serata che invece ci vuole una manovra contiana intanto tu hai capito che cosa sarebbe una manovra trampiana per il nostro paese? immagino voi che Salvini volesse dire quello taglio le tasse faccio altro debito spero nella crescita c'è un particolare che gli Stati Uniti stampano moneta e non solo in un club come l'Unione Europea altro debito l'abbiamo detto tante volte non ce lo lasciano fare è inutile girarci intorno non ce lo lasciano fare soprattutto se non è legato agli investimenti o legato a un progetto credibile il paese crescerà fidatevi questa è la primissima cosa da dire e la seconda cosa secondo me è che invece Salvini non ha detto ma secondo me ha pensato non è solo la politica economica Trump lo attira perché Trump è un presidente social e un po' cinematografico diciamo che le spara grosse continua a cambiare il copione e gli va sempre bene secondo me Salvini mi ha attirato da questa cosa qua e e niente lascio gli altri e poi torno allora il Washington Post ha definito Salvini il politico dell'Europa occidentale più simile a Trump è un bene avere al governo una specie di Trump italiano magari ci sono delle cose anche positive provocazioni diciamo io credo che quando Salvini dice voglio fare una politica a Trumpiano non abbia in realtà idea di cosa sta parlando se non vagamente del fatto che bisogna togliere i poveri per dare ai ricchi perché il progetto della flat tax sostanzialmente questo è noi diciamo poco anzi non diciamo quasi per niente che questa idea della cosiddetta tassa piatta è contraria alla Costituzione la Costituzione dice che la tassazione deve essere progressiva e questo risponde a un principio elementare di solidarietà l'idea che questa nazione questo Stato si rega sul principio basilare per cui chi ha di più da di più nel senso in proporzione in progressione di più però naturalmente queste suggestioni l'allusione al modello americano l'allusione alle cialtronate che vediamo e cui ha fatto garbato cenno Beppe Severnini cioè lo spararla grossa ogni giorno è una cosa che certamente accomuna i due e in realtà anche l'assenza di una vera politica accomuna i due perché nell'un caso e nell'altro al di là di questa idea terribile però come dire di contenuto politico di togliere i poveri per dare ai ricchi in maniera occulta non c'è altro non c'è un progetto politico non c'è un'idea di sviluppo non c'è una direttrice nella quale deve andare il paese per diventare più ricco globalmente anche se magari aumentando le disuguaglianze che è quello che loro vorrebbero noi su queste cose intendo le forze del progresso i critici di questa deriva dovremmo soffermarci cioè denunciare puntualmente quel poco pessimo pensiero che c'è e soprattutto questa enorme assenza di pensiero politico sei d'accordo Andrea Scanzi? Oggi tra l'altro proprio Trump ha criticato il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi dicendo che fa concorrenza sleale con i tassi tenendo i tassi bassi dell'euro secondo te il governo Salvini di Maio dovrebbe fidarsi di Trump o di Draghi? visti anche diciamo gli attacchi pluriquotidiani soprattutto da parte della Lega e di Salvini un po' meno dalle europee dalla parte del Movimento 5 Stelle Ma sai se dovessi semplificare ti direi che Conte e Tria stanno molto più vicini a Draghi e Salvini e Di Maio stanno molto più vicini a Trump però rispondere alla tua domanda Lilli presuppone un esercizio di fede che io onestamente non ho più dal 26 maggio e cioè ritenere che ancora questo paese abbia un governo io credo che questo paese abbia una sorta di fantasma di governo qualcosa che prima c'era e adesso non c'è più io ho sempre pensato che il Salvimaio fosse un governo che abbia alternato e avesse alternato delle cose buone delle cose semplicemente terribili e tutti noi più volte anche in questo studio ci siamo detti vediamo il 26 maggio come vanno le elezioni e vediamo quanti voti in più prende Salvini perché lo sapevano tutti che avrebbe fatto il botto forse non così tanto ma lo immaginavamo è successo quello che è successo dal 27 di maggio io fatico a riconoscere un governo perché sta diventando tutto terribilmente noioso e ripetitivo litigano dalla mattina alla sera e un giorno sono i mini bot e un giorno è Radio Radicale un giorno è la flat tax e un giorno sono le intercettazioni sulla riforma della giustizia è qualcosa di terribile, noioso e sconfortante una sorta di enorme masserizia della politica perché? Perché i due contendenti devono trovare le scamotage più efficace per far saltare il banco e secondo me anche in questo caso il favorito è Salvini che probabilmente da qui al fatidico 20 luglio che è la data ultima per poter votare entro settembre non farà altro che ogni giorno provocare sistematicamente Di Maio e quel che resta dei 5 stelle guardate che ieri noi abbiamo visto una cosa che se l'avesse fatta la satira ci saremmo messi a ridere per 10 anni cioè Salvini ripete ogni giorno prima gli italiani ma io non ho mai visto mai visto nessun Presidente del Consiglio, nessun Ministro piegarsi e azzerbinarsi così tanto come ha fatto lui ieri, non prima gli italiani, prima gli americani Salvini ieri mi ha ricordato Benigni e Troisi quando scrivevano in Non ci resta che piangere la lettera al Santissimo Savonarola e gli dicevano facci tutto quello che vuoi tanto noi stiamo sotto i tuoi piedi zitti e felici Ecco Salvini ha detto questo a Trump e quando la situazione è questa come faccio a risponderti su un governo è solo, si tratta solo di attendere, esatto, ti puoi anche muovere e noi non ti muoviamo e noi non facciamo niente, si sta solo aspettando che uno dei due stacchi la spina ma non è neanche un governo, sono i postumi di un governicchio Insomma, Beppe Severnini, tu pensi che siano i postumi di un governicchio Salvini dice tra l'altro che ha preso tanti voti promettendo anche di abbassare le tasse che quindi il ministro dell'economia Tria deve praticamente fare quello che dice lui quello che dice la Lega, si deve adeguare però Tria di sicuro non intende adeguarsi anche perché il contatto con il Capo dello Stato è un contatto diretto come anche quello del Premier Conte che anche in serata ha detto i conti devono quadrare quindi abbassare le tasse, aumentare i salari insomma tutto questo va bene se è compatibile con i nostri conti pubblici Allora, so che è una domanda che vi ho fatto tante volte e che temo dovrò farvi ancora tante volte ma quanto potremo andare avanti con questo gioco delle parti? Non credo per molto Tra l'altro guardavo prima l'inquadratura mentre parlava Gianrico e sorridevo e qualcuno che guarda otto e mezzo spesso mi dice Beppe, ma perché lei sorride? Uno sorride di questi tempi perché cosa deve fare? Può sorridere o ridere o piangere uno dei tre perché è un atteggiamento normale, difficile da tenere davanti allo spettacolo che Andrea ha descritto perché quello che sta accadendo è questo c'è un governo che di fatto è in disaccordo su tutto secondo me quando uno chiede l'ora esatta all'altro sono sicuro che anche gli hanno qualcosa da dire ma però vedi Lilli, tornando all'America Salvini si allarga così perché sta già comportandosi come un capo di governo gli Stati Uniti l'hanno trattato come un campo di governo non li hanno fatto incontrare Trump perché sarebbe stato un po' troppo ma li hanno fatto incontrare il segretario di Stato se potete mandare ancora l'immagine dei due vicini tra l'altro devo dire che Salvini sembra in gran forma in quella foto guarda che filiforme Salvini in questa foto anche perché Mike Pompeo, il segretario di Stato americano diciamo è assai abbondante allora ha incontrato il segretario di Stato che è quindi il ministro degli esteri italiano quindi lui era anche come ministro degli esteri perché questa è la realtà ha incontrato il vicepresidente che è una figura molto importante negli Stati Uniti in buona sostanza lui sta già comportandosi come primo ministro e la novità di questo viaggio siccome è la principale novità di questo viaggio è che gli Stati Uniti hanno votato hanno votato per un governo a guida Salvini e in cui lo vedono dalla loro parte su tutto per quanto riguarda la Cina che lui, che ne uno, ne Salvini, ne Tram vedono i buon occhio per quanto riguarda la Russia per quanto riguarda tante altre cose e quindi non so chi dei due l'ha detto mi sembra Andrea di nuovo mi spiace non è bello che si vada d'accordo anche su tante cose tre di noi la penserebbero diversamente Poi ho un tema sul quale non sarete d'accordo tu e scanti No, oggi lo so già qual è ma allora ne parliamo dopo e lo immagino almeno e lo immagino perché di questi tempi calcistici sia molta agitazione quello che volevo dire è così insomma Andrea ha centrato il punto la situazione è incredibile è un viaggio così appiattito sugli Stati Uniti io che insomma seguo questi temi da tanto tempo io non me lo ricordo davvero Gianrico Carofiglio i Cinque Stelle sono preoccupati che proprio sulla flat tax Salvini possa trovare un pretesto per far cadere questo governo avrebbe interesse Salvini a farlo cadere il governo? Perché anche lì Francamente penso di no si discute molto fra chi si interessa di politica scommettendo sulla data o sull'epoca possibile delle elezioni io sento che molte persone competenti certamente più di me di queste cose più capaci di leggere la realtà dicono si vota di sicuro a settembre io ho molti dubbi su questo secondo me è più probabile che si voti dovrebbe fare una campagna elettorale in agosto io ce ne scampi ma io ho molti dubbi su questo per varie ragioni alcune sono viscerali altre razionali io non credo che Salvini abbia voglia di andare a votare a settembre perché quello sarebbe per poi insediarsi perché in quel caso con ogni probabilità vincerebbero loro e fare da solo rendendosi l'intera responsabilità di questa iniziativa una vera finanziaria lacrime e sangue perché a chiacchiere sono tutti fortissimi quando si tratta di mostrare i muscoli all'Europa fino a che non c'è da fare veramente il confronto andare sulle questioni quando si va sulle questioni come è accaduto alla Grecia che è una realtà incomparabile rispetto alla nostra ovviamente ci si ci si acconcia per così dire però io vorrei far notare una cosa fermo restando che è vero che la flat tax può essere il pretesto il tentativo di far saltare il banco ora o dopo ma avete notato come bisogna dirlo con fastidio ma anche con apprezzamento come sono bravi ancora una volta nella propaganda salta fuori l'altro ieri una notizia esplosiva venuta fuori da un servizio credo dell'Espresso di Repubblica sui gli immigrati restituiti all'Italia dalla Germania in quantitativi di gran lunga superiori agli sbarchi 1200 mi pare negli ultimi mesi e loro mandano in televisione un loro parlamentare che mi pare domenica la spari grossa sul fatto che l'Italia non deve accettare l'estorsione dell'Unione Europea parole grosse su cui tutti si concentrano e nessuno parla di questo fatto che è l'ennesimo tassello di un vero fallimento sostanziale politico di uno che ha chiesto i voti dicendo io rimpatrio gli immigrati clandestini e naturalmente non ne ha rimpatriato nessuno perché era una farsa soltanto immaginarlo in quei termini ma di più si vede entrare in Italia restituiti dai tedeschi nell'ordine delle migliaia persone che erano transitate dal nostro territorio e il flusso enorme di irregolari continua da terra e su questo nessuno dice nulla io con dispiacere gli devo battere le mani perché sono capaci straordinariamente di distrarre l'attenzione dei temi su cui nella sostanza loro mostrano il loro fallimento politico Andrea Scanzi sarà anche così però per il momento la maggioranza almeno dell'opinione pubblica sembra non accorgersene e di sicuro l'abbiamo detto molte volte anche in questa trasmissione sul fronte della comunicazione è molto più abile molto più furbo Salvini di Maio tra l'altro il momento 5 Stelle adesso è alle prese anche o ancora una volta con Alessandro Di Battista che avremo tra l'altro ospite qui domani sera allora Di Battista ha scritto un nuovo libro e si toglie come si suol dire in gergo qualche sassolino dalle scarpe per esempio ha scritto che i ministri dei 5 Stelle si sono trasformati in burocrati rinchiusi nei ministeri e Di Maio ha risposto piuttosto piccato e ha detto se Di Battista torna a lavorare sono contento ma non abbiamo bisogno di altri opinionisti allora qui stiamo di nuovo assistendo a un gioco delle parti oppure tra i due quello che hanno sempre declamato come una grande amicizia invece sta finendo è finita cosa dobbiamo cosa dobbiamo pensare è difficile Lilli credo che siano due amici che come capita tra le amicizie quelle vere si litiga spesso e questa è una fase in cui non possono non litigare perché c'è uno che non ha vincoli di governo e dall'altra parte c'è una persona che ha un passo dalla fine anticipata della sua carriera politica io il libro a cui fa riferimento l'ho letto anche perché l'abbiamo pubblicato noi del fatto quotidiano come Paper First è un libro divertente è un libro anche pieno di aneddoti quindi domani sera sarò curioso di sentire quello che dirà Di Battista lo presenteremo anche insieme a Roma il problema di Di Battista e Di Maio è che hanno torte ragioni allo stesso tempo e l'effetto finale è che quello che perde è il Movimento 5 Stelle mi spiego Di Battista ha ragione quando insiste sul fatto che se questo governo dura e continua a durare in questo modo ne trae vantaggio soltanto Salvini perché per i 5 Stelle diventerà una sorta di agonia nell'agonia una sorta di suicidio distillato a rallentatore giorno dopo giorno se andassimo a votare domenica prossima i 5 Stelle prenderebbero ancora meno voti di quanto hanno preso il 26 maggio al tempo stesso Di Battista ha torto perché si è tolto dalla gora politica si è tolto dal lagone ha detto io me ne vado vado in viaggio che è legittimo però poi non è che puoi bastonare da lontano tra l'altro Di Battista come Di Maio ha fatto l'errore madre che hanno fatto i 5 Stelle si sono fidati di Salvini e quando ti fidi di uno che è molto più furbo più scaltro più mediaticamente efficace di te prima o poi quello ti fatana e su questo hanno torto entrambi dall'altra parte c'è Di Maio che a me sembra lo dico anche con tenerezza e con affetto perché è comunque un bravo ragazzo al di là del fatto che politicamente a volte mi piace a volte no mi sembra un pugile suonato dopo il 26 maggio è uno che non sa minimamente più cosa fare ai suoi amici pare abbia detto io non riesco più a comprendere quello che vuole fare Salvini perché non so più quello che fa mi dice una cosa e il giorno dopo ne fa l'esatto contrario che ti dà il polso della situazione ti fa capire che lui non ha più non ha più la realtà delle cose davanti non riesce più a gestire il Movimento 5 Stelle e quindi è ovvio che Di Battista lo critichi però mi permetto di dire quando Di Maio ricorda ad Alessandro Di Battista sì ragazzo però se vuoi fare l'opinionista è un conto ma se vuoi star dentro i 5 Stelle sporcati le mani è un po' di ragione ce l'ha perché si arriva a un punto in cui bisogna decidere cosa fare da grande quindi quando rivedrò Di Battista in pubblico gli dirò una volta per tutte se ha deciso cosa fare da grande perché è legittimo godersi la vita ma prima o poi cosa fare se questo o quest'altro bisogna deciderlo Servetini quindi Di Maio deve temere decisamente di più Salvini che Di Battista non c'è dubbio non c'è dubbio deve temere più Salvini se non l'ha capito adesso non capisce più certo che deve temere di più Salvini è anche vero che Di Battista è un'idea possibile alternativa per i 5 Stelle se questo esperimento fallisce e tutto lascia ritenere che siamo vicini io credo che Di Maio è un ragazzo molto intelligente però è anche un ragazzo è una persona giovane e a 32 anni si è accollato una serie di incarichi molto impegnativi guardate che sto cercando di comprendere non lo sto assolutamente deridendo quindi c'è anche proprio una questione di inesperienza allora se lui non riesce ci prova qualcun altro è chiaro che Di Battista sente il profumo della possibilità di fare il capopartito capopopolo secondo me è un movimento 5 Stelle Stile Di Battista è un partito dal 5 o 7% posso sbagliarmi perché poi se Salvini crollasse lo spazio per un nuovo movimento di protesta in Occidente c'è sempre ma adesso quello fa tutto Salvini fa il capo del movimento di protesta di fatto il capo del governo il ministro degli esteri tutto secondo me se stasera andiamo a Palazzo Chigi andiamo nel Gabbiotto c'è lui anche lì dentro dice che così caro figlio e questo per quanto riguarda i partiti governativi poi c'è invece il partito all'opposizione della sinistra del partito democratico che ha altre gate da pelare molto serie e alle prese con questo scandalo nomine consiglio superiore della magistratura e la interpello qui sia come ex magistrato che anche come ex politico lei prima è stata magistrato poi ha fatto politica e siccome si allarga diciamo questo scandalo il procuratore generale Fuzio ha detto che bisogna sospendere Palamara dalle funzioni e anche dallo stipendio in attesa che si chiarisca un po' tutto allora quello che dicono in molti è che si è sempre fatto così Chelotti ex ministro del PD Renziano quando si incontrava a mezzanotte con i magistrati del CSM per decidere i nomi e le nomine di alcune procure in fondo ha fatto quello che hanno sempre fatto tutti negli ultimi 60 anni solo che con dei metodi di intercettazione molto più sofisticati oggi li veniamo a sapere queste cose è così anche in base alla sua esperienza è un discorso come dire hanno sempre rubato le macchine hanno sempre fatto le rapine c'è sempre stata la mafia ora scoprite le prove li volete anche arrestare che bizzarre pretese se si è sempre fatto così si lascia che continui in questo modo ovviamente è un'affermazione una di quelle affermazioni che affossano la qualità del dibattito pubblico del nostro paese e naturalmente sono un disastro per la sinistra molto più che per certa destra populista che invece ci sguazza in questo tipo di non argomenti il segretario del PD Zingaretti avrebbe dovuto essere molto più duro con Luca Lotti ovviamente non voglio dare lezioni a nessuno io stimo Zingaretti l'ho anche votato pur non essendo iscritto al PD ma alle primarie l'ho votato quindi faccio sempre questa precisazione per dire che trovo sia un ottimo segretario la persona adatta in questo momento fatta tutta questa premessa io credo e l'ho detto anche a lui direttamente in occasione di un dibattito pubblico che ci vogliono parole molto molto nette su questa vicenda e lo sforzo che io capisco di tenere insieme un partito in un momento difficile giustifica fino a un certo punto alcune timidezze oltre a un certo punto secondo me no secondo me bisogna dire con estrema chiarezza per me è un concetto fondamentale che in questo paese e che accade a destra mi interessa poco ma mi preoccupo se accade a sinistra si è perso il senso della vergogna il fatto che qualcuno dica si è sempre fatto così quindi non ce ne dobbiamo interessare significa che uno non percepisce il bisogno di vergognarsi per questa roba che significa che si è sempre fatto così adesso sono stati beccati fino a un certo punto non erano stati beccati il comportamento criminale o di malcostume pregresso ovviamente non giustifica quello attuale soprattutto quando se per fortuna viene beccato caro figlio lei è tifoso del calcio non particolarmente non particolarmente non mi piacciono sport più violenti ah perché lei fa è cintura nera nerissima ormai nerissima bene Severnini cosa volevi dire invece voglio interpellare sia te che scansi a proposito del calcio rinuncio al mio intervento perché spenso di sapere di cosa vuoi parlare quindi rinuncio di politica non ne posso più ecco voglio parlare di Totti che ha lasciato la Roma ieri con una lunga conferenza stampa e ne ha dette di tutti i colori e molti anche opinionisti politici hanno commentato con anche grande ardore e grande trasporto e enfasi questo questo evento cosa c'è di tanto eclatante c'è di eclatante che Totti è stato un grandissimo giocatore e che pensava gli hanno fatto credere di poter diventare subito un grandissimo dirigente addirittura il direttore tecnico della Roma un grande violinista non è automaticamente un grande direttore di orchestra questo passaggio non c'è mai stato Del Piero non è andato a fare il direttore tecnico della Juve Zanetti che forse è il caso più riuscito di bandiera che è rimasta nella sua squadra però Zanetti è un vicepresidente non decide lui la campagna acquisti Maldini anche non è stato gestito male dal Milan la Roma ha gestito tutto questo malissimo l'errore è stato far credere a un grandissimo giocatore che potesse diventare il dirigente Massimo o uno dei grandi dirigenti della Roma e decidere cosa fare queste idee sono romantiche anche un po' infantili e se noi tifosi abbiamo queste idee siamo da perdonare quindi per me i tifosi romanisti io li capisco l'amarezza e tutto quanto ma chiunque non sia coinvolto con la passione e il cuore non può non vedere quello che è successo semplicemente era un disastro che doveva succedere perché gli è stato fatto credere che poteva chiudere col campo e diventare un grande dirigente io non so se finisco se Totti può diventare un grande dirigente di sicuro deve studiare per diventare un grande dirigente e dedicarci i prossimi dieci anni della sua vita non so neanche se gli conviene è detta la verità la conferenza stampa di ieri Scanzi in quel frangente non ha dato proprio una grande prova di essere poter essere un grande dirigente qualcuno ha anche detto che Totti viene chiamato veniva chiamato il pupone si è trasformato in un piagnone tu che idea ti sei fatto ne parliamo perché siccome appunto ne discute il paese allora visto che dedichiamo tutte le sere a ogni respiro e a ogni virgola del governo e o dell'opposizione vai si è possibile che sia molto più appassionante analizzare con attenzione la conferenza di Totti ma sai Severnini ha detto Beppe ha detto delle cose molto giuste razionalmente è verissimo quello che ha detto lui io però vorrei fare due notazioni che vanno un po' contro il suo parere soprattutto da un punto di vista romantico perché è retro parlare di romanticismo applicato al calcio ma lo sport è anche questo ci piace per quello ci piace perché a 40 come a 50 come a 70 anni possiamo fingere ancora di essere bambini intanto la componente Peter Pan che è isondata ieri dalla conferenza stampa di Totti è qualcosa che c'è sempre stata nei grandi campioni la storia di qualsiasi sport è piena di campioni che non ce l'hanno fatta smettere che hanno smesso tardi che si sono coperti di ridicolo ma che comunque anche nell'errore anche nell'inciampo anche nel non saper prendere il viare del tramonto sono stati romantici io mi ricordo Borg che 40 anni riprese la racchetta di legno mi ricordo Muhammad Ali che era malato tornò sul ring e preso una fraccata di botte dall'Harry Holmes potrei fare miliardi di esempi lo stesso Valentino Rossi non vincerà mai più una gara o meglio una gara sì ma un mondiale probabilmente no però non ce la fa staccarsi da quella benedetta passione evidentemente Totti credeva che quella passione chiamata Roma chiamata calcio potesse proseguire naturalmente anche in un'altra ottica l'altra cosa che secondo me ci ha colpito ha colpito un po' tutti al punto che ne parliamo al barro più della politica intanto perché la politica è svilita ma poi anche perché con la caduta di Totti e l'allontanamento di Totti dalla Roma è come se noi assistessimo definitivamente alla morte del concetto di bandiera Totti era l'ultimo panda che si citava quando si diceva ancora esistono le bandiere nel calcio ecco saltato Totti e andato Sari alla Juventus possiamo mettere una croce enorme sul concetto di bandiera e di fedeltà applicato al calcio caro figlio per tornare al partito democratico dice Scanzi per non essere l'ultimo panda ecco il PD per non essere l'ultimo panda deve auspicare in questo marasma in cui si trova adesso con i renziani che attaccano Zingaretti una scissione o no? ma non non credo io non credo che la scissione sia una buona idea ma non deve essere neanche una cosa da evitare a tutti i costi tanto per non girare attorno ai concetti bisogna verificare come si dice i gradi di compatibilità se nelle diversità esiste però un quantitativo di ragioni per stare insieme per marciare insieme verso un obiettivo comune molto bene che si resti insieme se no è possibile anche che la previsione? è difficile io noto dei toni che non fanno ben presagire ho sentito espressioni nei giorni scorsi che non mi sono piaciute che sono di particolare violenza possono essere stati degli scatti di nervi di qualcuno dei protagonisti del dibattito o possono essere stati passaggi della possibile creazione di un incidente non lo so ma io credo che noi dobbiamo auspicare a parte la storia del PD che ovviamente è fondamentale per l'idea di un'alternativa che sorga in questo paese una grande civica nazionale che raccolga l'ambientalismo la sinistra tutta una serie di istanze di rinnovamento che fanno fatica a inquadrarsi nello schema del partito tradizionale della sinistra cioè il PD speriamo speriamo allora torniamo anche all'economia adesso per un attimo perché abbiamo parlato di abbassare le tasse Salvini lo vuole tantissimo ma ce lo possiamo permettere pochi secondi di pubblicità e poi il punto di Pagliaro confrontando le grandi strategie di Trump con quelle che ha chiamato le piccolezze dei controllori di Bruxelles Matteo Salvini ha annunciato da Washington l'avvio della campagna taglia tasse che si prevede molto popolare l'idea di fondo è che abbassando le tasse si dà un impulso così forte all'economia da generare un aumento di attività e dunque di entrate fiscali la spesa iniziale si ripagherà senza creare disavanzo e quindi maggior debito e se poi il debito si dovesse creare lo stesso pazienza l'Italia in fondo può permetterselo come ha spiegato l'altro giorno il nuovo presidente della Consob Paolo Savona secondo Lorenzo Forni professore di politica economica all'Università di Padova con un passato al Fondo Monetario e alla Banca d'Italia la spesa in disavanzo che si paga da sola è per certi versi il tentativo moderno di replicare il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci per confutare questa illusione coltivata da politici di ogni tendenza Forni ha scritto un volumetto chiaro e documentato che il mulino pubblica con un titolo altrettanto accessibile nessun pasto è gratis ovvero se un paese spende più di quanto produce alla fine qualcuno deve saldare il conto analizzando ciò che è accaduto altrove dall'Argentina alla Bielorussia dalla Spagna alla Grecia Forni spiega perché conviene rispettare i vincoli di bilancio rammenta cosa può accadere quando un governo fatica a rinnovare sul mercato il suo debito in scadenza si sofferma sulla qualità della spesa pubblica ricordando che investimenti pubblici con alto rendimento esistono e sono quelli in istruzione ricerca sostenibilità ambientale mantenimento delle infrastrutture ma in Italia non sono in cima alla lista dei politici e questo più che le tasse spiega il nostro declino ecco che qua speriamo non sia così anche se pochi sono gli indicatori che ci fanno essere ottimisti in questo momento noi ci fermiamo qui io ringrazio Beppe Severnini Andrea Scanzi ce la dico caro figlio e vi lascio alla Merlino con il suo speciale dell'aria che tira quindi restate con noi qui sulla 7 e noi come sempre ci vediamo domani 8 e mezzo arrivederci